Ehi ragazzi, dico a voi, voi della prima squadra, oggi volevamo sfidarvi alla DT Penalty Challenge. Non sapete che cos'è? Dovete fare 10 giri intorno al pallone e poi segnare. Vediamo se ci riuscite. Non preoccupatevi ragazzi, oggi giocherò io con voi, vedrete che vi farò vincere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beh, come ti sembra sia andata? Non è andata male? Beh, in realtà potevate fare un po' meglio. Vediamo cosa stanno a fare i maschi. La sfida è lanciata!